Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parleremo degli ultimi pagamenti IMSS del mese di marzo 2022 con tutte le nuove relative date. Vediamo dunque insieme i dettagli in questo video. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Partiamo con il bonus IRPF 100 euro in busta paga e disoccupati con aspita. Le bonus è già in pagamento da inizio marzo ma i pagamenti arriveranno ancora a chi non l'ha ricevuto anche la prossima settimana. In ogni caso per sapere l'esatta data di pagamento bisogna consultare il proprio fascicolo previdenziale. Passiamo poi all'assegno unico universale su domanda. Le disposizioni dei pagamenti per tale assegno sono previste per il 16, 21 e 24 marzo. Entro fine del mese coloro che hanno fatto domanda comunque riceveranno sicuramente il pagamento. Passiamo poi a reddito e pensioni di cittadinanza. Il pagamento come abbiamo spiegato più volte sarà anticipato venerdì 25 marzo in quanto il 27 cade di domenica. Ma i pagamenti quasi certamente esilitteranno per qualcuno lunedì 28 come spesso accaduto. Per quanto riguarda invece la ricarica della carta acquisti è in arrivo dal 16 marzo ma continueranno le ricariche anche la prossima settimana. Ovviamente ci riferiamo al bimestre marzo e aprile. Passiamo poi al tema pensioni. Purtroppo non si sa ancora nulla di nuovo dopo la notizia infondata data per certa del calendario anticipato. La protezione civile e poste italiane non hanno rilasciato ancora alcun comunicato ufficiale. Staremo dunque a vedere nei prossimi giorni se ci sarà o meno l'anticipo. Bene e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti.